Allora, Lescano, vittoria, gol segnato, tre punti conquistati a Foggia e la fiducia che cresce. Sì, sì, sicuramente è stata una partita pazzesca da parte nostra e forse più di quello che ci aspettavamo a livello di risultato, a livello di prestazione no, perché l'avevamo preparata così. Sono contento di aver fatto gol e poi che sia finito giusto il primo tempo e abbiamo approfittato anche di qualche loro difficoltà. Cinque partite e quattro vittorie, ti aspettavi un inizio così brillante? Sì, sì, perché in ritiro avevamo lavorato molto e credo che la nostra forza, anche quella di non prendere gol, deriva dal fatto che siamo molto bene fisicamente, secondo me, soprattutto nei secondi tempi. Anche se le prime cinque partite erano da calendario molto ostiche, perché c'era il Crotone, l'Avellino e lo stesso Foggia fuori casa, ma abbiamo dimostrato di poterci giocare con tutti. Anche secondo me col Crotone meritavamo almeno il pareggio. Qual è il segreto di questo Pescara Facundo? Penso che il segreto è che c'erano dei giovani di valore che stanno ascoltando i più vecchi e i giocatori che sono arrivati anche dalle categorie superiori si sono subito collati in realtà e penso che questo mix per adesso stia funzionando molto bene. Tre anni in doppia cifra in Serie C, questo è il quarto anno, naturalmente non c'è due senza tre, il quarto viene da sé. Eh sì, speriamo, adesso sono partito bene, anche ho fatto due assist che di solito non li faccio, però vuol dire che la squadra è corale, che ho metto anche i miei compagni, mi metto a disposizione i miei compagni anche per fare in modo che segnino loro, come loro aiutano me, come ha fatto Cancellotti, secondo me è una bellissima palla e penso che tutti ci dobbiamo dare una mano e poi i singoli vengono poi alla lunga. Cuppone ti ha perdonato per la palla che non gli è passata? Eh sì, sì, sono occasioni di gioco, ero al limite dell'aria, a Viterbo, a Latina, ero data, io non l'ho visto, altrimenti gli avrei fatto fare gol volentieri a Gigi perché comunque siamo tutti e due, tra virgolette, salentini e quindi abbiamo un bel rapporto. Ti chiedo le ultime due cose, Costantino è il capocannoniere del campionato e verrà sabato con il Monterossi. Sì, sì, ho visto che l'ultima partita ha fatto due gol sul rigore, ne scherzavamo che noi in cinque partite ancora non l'abbiamo preso. Allora, tiri tu in caso? E vediamo, questo è deciso il mister. No, però è un attaccante di categoria che fa sempre gol, anche le ultime anni ha fatto bene, l'ho incrociato quando era a Bari. E niente, anche loro sono una squadra giovane, dinamica e sarà difficile come sono tutti, speriamo che il pubblico ci dia una mano. Mi dici un giocatore argentino, un tuo idolo con cui sei cresciuto? A me piace molto Milito, Higuain, però più Milito diciamo.